Parliamo di mieloma multiplo, in particolare del trattamento dei pazienti non candidabili al trapianto con il professor Antonio Palumbo, direttore dell'unità mieloma multiplo all'Università di Torino. Professor Palumbo, quali sono i pazienti con mieloma multiplo che non possono essere sottoposti al trapianto? Diciamo che nell'ambito del mieloma esistono tre gruppi di pazienti, i pazienti più giovani in genere di età inferiore ai 65 anni che possono essere sottoposti al trapianto autologo, i pazienti cosiddetti anziani di età superiore ai 65 anni che non possono ricevere un trapianto autologo e devono essere trattati con le cosiddette terapie convenzionali. Come vengono trattati questi pazienti? All'interno del gruppo di pazienti di età superiore ai 65 anni e soprattutto con l'invecchiamento e il passare degli anni è sempre più frequente trovare persone che oltre al mieloma possono avere altri problemi di natura sanitaria tipo cardiopatie, pneumopatie e altre alterazioni. E' quindi essenziale prima di iniziare ogni trattamento specifico per il mieloma differenziare i pazienti che non hanno nessun altro problema di natura sanitaria da quelli che già presentano altri problemi sanitari perché i primi possono giovarsi di una terapia relativamente intensa e i secondi vanno trattati con terapie meno intense. A secondo di questa definizione che in inglese è fit e frail cioè paziente fit o fragile. Il paziente fit deve essere trattato con una combinazione a tre farmaci che include il bortezomib o la lenalidomide con un alchilante e con un prenisonico. In particolare le combinazioni autorizzate in Italia sono la combinazione bortezomib, melphalan e prenisone e la combinazione melphalan, prenisone e talidomide. Nel paziente invece fragile è utile usare le stesse combinazioni senza l'alchilante cioè senza il melphalan. e quindi l'utilizzo del bortezomib con prenisone o della lenalidomide con desametazone o prenisone. Che risultati si ottengono con questi farmaci? La differenziazione consente innanzitutto di ridurre in modo importantissimo il rischio di tossicità nel paziente fragile e consente di controllare la malattia per periodi variabili da 1 a 3, 4, 5 anni. Ci sono nuove farmaci in studio per questi pazienti? Sono in corso degli studi per valutare l'efficacia di farmaci di seconda e terza generazione. Nel campo dell'imid sono in corso di registrazione e di dispensazione al pubblico un imid di terza generazione cioè la pomalidomide. Per quanto riguarda gli inibitori del protesonoma sono in corso studi per la registrazione di inibitori del protesonoma di seconda generazione con nome di carfizomi. Quali sono le prospettive future di questi pazienti? Sicuramente come abbiamo appena detto poco tempo fa in sala negli ultimi 15 anni la sopravvivenza dei pazienti affetti da mieloma è triplicata. Se nei prossimi 15 anni riusciamo a fare altrettanto sicuramente i risultati saranno quanto mai interessanti.